Dieci anni fa il Presidente Xi Jinping lanciò la Belt and Road Initiative, quella che in Italia chiamiamo la nuova via della seta, una straordinaria iniziativa internazionale, direi globale, che in dieci anni ha toccato positivamente ben 68 paesi del mondo, più della metà della popolazione mondiale. Un'iniziativa che è rivolta a tutto il mondo, ma principalmente, come è ovvio, ai paesi dell'Asia, all'Europa e molto anche all'Africa, ai paesi in via di sviluppo, dove la costruzione di massicce infrastrutture hanno consentito un progresso delle popolazioni. Dal punto di vista italiano, noi firmammo, il governo italiano firmò nel 2019, nel marzo, il memorandum sulla nuova via della seta. Era il primo governo Conte e il Presidente Xi Jinping venne proprio in visita di Stato in Italia per suggellare questo importantissimo storico accordo e in quell'occasione scrisse anche un articolo per il Corriere della Sera, il più importante quotidiano italiano, in cui diede un riconoscimento enorme al nostro paese, dicendo che se la Cina era il simbolo della cultura orientale, della civiltà orientale, l'Italia era il simbolo della civiltà occidentale. Da allora sono cambiati i governi italiani e, devo dire, si è rallentata questa politica di apertura nei confronti della Cina, colpevolmente secondo me, perché era una grande opportunità. Pensiamo soltanto alla portualità italiana, l'Italia è in una posizione strategica del Mediterraneo e i porti che sarebbero stati interessati dalla Belt and Road Initiative sarebbero stati Trieste, Venezia, Ravenna sul versante adriatico, Palermo e Genova sul versante tirrenico, quindi un'opportunità che spero, confido, anche se non sono certo, il nuovo governo voglia riprendere. Con grande lungimiranza il Presidente Xi Jinping parlò di un futuro condiviso per l'umanità, è l'unica speranza possibile, futuro condiviso. Viviamo in un'epoca di grandi disordini, di guerre inaspettate che stanno lacerando la vecchia Europa, era da più di mezzo secolo che non vi erano guerre in Europa e manca completamente proprio quella visione globale verso un futuro condiviso. Futuro condiviso significa costruire ponti tra le popolazioni e tra gli Stati e non muri, agevolare gli scambi, agevolare il movimento delle persone, delle idee, della istruzione. Noi stiamo facendo come Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, di cui sono onorato di essere preside, molte iniziative, anche molto importanti, molto innovative sul piano della istruzione universitaria con le università cinesi, ragazzi cinesi vengono a Roma, ragazzi italiani vanno in Cina a studiare, professori ugualmente si scambiano, studiamo e pubblichiamo ricerche insieme, teniamo convegni e cioè apriamo al dialogo e il dialogo è l'unica soluzione per risolvere i conflitti, certamente non le armi, questo il Presidente Xi Jinping lo ha capito molto prima di altri e dobbiamo essergli grati.